Chiara lebati, chiara lebati, chiara lebati! Sì! la giova va avanti la giova 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 è interessante la giova 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 7 minuti e 15 cosa ha l'indietro intanto riempi il tempo intanto prof non cambierebbe nulla intanto un quarto un quattro questo è un marco di scatto vedete questo se si sente lo schermo potrebbe essere per favore di i miei amici no 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 non è che si non vuole stimore , forse non vuole stimore che sia parello Grazie.